Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta rosticcera per rostici. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 3 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono acqua, farina di tipo 0, farina manitoba, lievito, strutto, zucchero, sale, un tuorlo e latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero e il lievito. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo sciogliere per due minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo adesso lo strutto, la farina manitoba, la farina di tipo 0 e il sale. E facciamo impastare per quattro minuti in modalità spiga. Il nostro impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola unta d'olio, copriamola con la pellicola trasparente e lasciamola lievitare per almeno tre ore. Trascorso il tempo di lievitazione, adesso andremo a stendere l'impasto. Posizioniamolo su un piano di lavoro, rivestito con carta da forno e stendiamolo con il mattarello. Una volta steso l'impasto, iniziamo a realizzare i rustici. rivestito il nostro yustel, mettiamolo da parte in una taglia rivestita con carta da forno e proseguiamo facendo altre forme. VORME! 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 VORRE! VORME! 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 e proseguiamo con il resto dell'impasto. Dopo aver formato i nostri fagottini, spennelliamoli con latte rosso d'uovo. Spolverizziamo con i semi di sesamo. Cuociamo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Pasta rosticcera per rustici, grazie e alla prossima ricetta Grazie per la visione! Grazie per la visione!